Venerdì 26 gennaio presso la Casa della Cultura a Torrita si terrà la presentazione del libro di Giancarlo Paiai da Passannante a Tartaglia. Titolo intrigante, di cosa tratta il libro? Allora, il libro tratta di questo personaggio Giovanni Passannante che era un giovane anarchico che il 17 novembre del 1878 attentò, diciamo usiamo questo termine, alla vita di Re Umberto I di Savoia usando un piccolo coltellino e facendogli solo un graffio in una gamba. Il racconto doveva essere questo, doveva essere anche un'analogia con quello che è successo poi nei tempi più recenti qui in Italia e quindi Tartaglia è il personaggio che tirò la statuetta a Berlusconi a Milano. Per cui volevo fare anche una sorta di analogia tra la pena che fu commutata allora a Passannante perché fu condannata a morte poi commutata in Ergastolo, ma ha passato veramente una vita in carcere atroce per cui io dopo poche pagine raccontando di questo fatto ho dovuto smettere perché tra l'altro proprio soffrendo di una claustrofobia estrema non ce la facevo più ad andare avanti per cui la storia di Passannante finisce dopo le prime 5-6 pagine. E come prosegue poi però questa storia? Giusto, bella domanda. Questa storia prosegue quindi con due brani, due flashback diciamo della mia infanzia e anche dei tempi più recenti dove racconto fatti di allora, di quando ero bambino e poi anche di quando in età un po' più adulta che spezzano appunto dalla storia di Passannante a quello che sarà invece proprio il contenuto di tutto il libro che si articola in pratica sui diritti civili. Io per anni ho avuto la responsabilità per i diritti civili in un'organizzazione politica nel Partito Democratico di Siena e sono stato portavoce per il Centro Italia dell'Associazione Laicità e Diritti per cui mi sono sempre impegnato su questo fronte, su questo tema e in tutte le iniziative che ho fatto dove sono intervenuto ho cercato di rimettere un po' tutto insieme per sensibilizzare ancora di più quello che è l'importanza dei diritti civili. Ho sempre cercato di fare interventi usando un linguaggio non canonico diciamo che riguarda un po' il linguaggio politico ma cercando di incuriosire, di provocare, di sensibilizzare per cui ho cercato di rimettere tutto insieme nella speranza che comunque i diritti civili tornino davvero ad essere primo piano per quello che riguarda l'agenda politica nazionale e anche nella sensibilità dei cittadini.